Il tema che stiamo affrontando oggi nell'ambito del progetto del diversity management che ci è stato affidato da SCAPEC riguarda come bisogna inculcare e diffondere all'interno delle organizzazioni aziendali il tema della diversità, quindi questa cultura etereogenea e pluralistica che deve coesistere nei luoghi di lavoro affinché non ci siano atti discriminatori e le organizzazioni aziendali siano sempre più inclusive, siano sempre più capaci di accettare e coinvolgere e di integrare non solo quelli che sono lavoratori che provengono al di fuori dei confini nazionali, quindi cittadini stranieri, ma tutte le persone che hanno delle diversità. Abbiamo organizzato quattro tappe sull'altrettante provincia della regione Campania e per ogni provincia abbiamo proposto tre seminari, quindi il diversity management osservato da tre angolazioni diverse. Un primo seminario era quello della dottoressa Silvia Lanzione, esperta di comunicazione. Un secondo focus è stato curato dal dottor Antonio Mazzeo, consulente del lavoro, ed infine il terzo seminario è stato curato dal dottor Alessandro Iacobino, che è un dottore in scienze tecniche e psicologiche, che ha affrontato il tema da un punto di vista più psicologico. Anche io a volte mi sento diversa da imprenditrice a seconda della persona che mi ritrovo di fronte. L'interlocutore può vedere la stessa persona in maniera diversa, quindi c'è bisogno veramente di formarsi e di informarsi per diventare un tutt'uno, per essere più solidali ed è tutto qui, nella mentalità e nel modo di vedere le cose.